Iniziamo con l'antipasto del menù pesce, un baccalà fritto. All'interno del pacchettino troverete l'insalata, la misticanza, la maionese di lamponi, il baccalà e la farina per fare la tempura. Prima operazione è la pastella. Abbiamo versato la farina in un contenitore, ora andiamo a mettere l'acqua e creare la pastella. Utilizziamo acqua frizzante molto fredda. Andiamo ad aggiungere poco alla volta e cerchiamo di non girarla troppo per evitare di cacciare troppo glutine. Con una parte di farina della pastella, che è una farina particolare di grano con lievito secco, andremo a infarinare il baccalà prima di passarlo nella pastella. Pastelliamo il baccalà immediatamente prima di friggerlo. A questo punto condiamo l'insalata. Apriamo la maionese. Andiamo a comporre il piatto. Il baccalà. Maionese di lamponi. L'antipasta è pronta.